Il riferimento nel mondo per i cani da pastore è nel tortonese, è Dario Capogrosso. Com'è cominciata la tua avventura? La mia avventura è iniziata un bel po' di anni fa, in realtà volendo andare a vedere, io sono nato allevatore, quindi nasco la famiglia di allevatori. La decisione di fare l'allevatore in realtà non c'è mai stata, l'ho sempre saputo, è sempre stato dentro di me, io ho la grande fortuna e il grande privilegio di fare ad oggi quello che avrei sempre dovuto fare. Il pastore Maremmano Bruzzese è un cane eccezionale sotto vari punti di vista, sia per la sua in qualche maniera molteplicità di attitudini, che partono da quelle di custode del greggio e vanno a finire a quelle di cane da famiglia. Ha in sé una qualità insida, che è l'equilibrio. Ogni cucciolata, ogni cane, ogni singolo cane ha una sua netta individualità e specificità. Quanti cani hai? Allora, i cani sono tanti. La mia struttura, in qualche maniera, per quanto riguarda l'ASL e le direttive sanitarie, dovrebbe contenere 50 cani. Ho comunque al momento dei giovani, però punto ovviamente anche a migliorare la struttura per arrivare a un numero congoro di cani per quella che è la richiesta che ho sia in Italia che all'estero. E parliamo brevemente di tutte le fasi di vita dei cani. Cominciamo dall'accoppiamento, un momento vissuto con grande rispetto dal branco. Non c'è nessun libro testo che parla di questo, neanche testi di etologia, perché fare tutto questo è molto complesso. La gestione dei cani in branco presuppone la conoscenza del ruolo di branco, quindi i cani nascono alfa, nascono beta, nascono gamma, nascono tester, esattamente come la struttura Girolarche dei Lupi. E in qualche maniera modulare la vita di branco tenendo conto di queste situazioni è complesso. In realtà mi sono reso ben conto che è molto più corrispondente alla natura del cane, in partenza prevedere un maschio che possa essere compatibile con un gruppo di femmine. La tensione nei momenti del calore per le femmine è molto alta all'atto dell'accoppiamento. Tutte le tensioni sociali, come per magia, scemano. È il momento in cui sia maschio che femmina si trova in un momento di grandissima debolezza. I cani si ritrovano per buona parte dell'accoppiamento in ermi, attaccati di un l'altro per il posteriore. Per cui sarebbe un momento di straordinaria debolezza se qualcuno volesse approfittare di questo momento. In realtà le tensioni si placano e non ci sono mai scontri in questo senso. Poi al termine della gestazione la madre scava una bucca ai tuoi cuccioli? Sì, anche quello. Io cerco di allevare i cani tenendo conto del loro benessere. Per motivi sanitari si cerca sempre di rendere molto artificiale il momento del parto. Si cerca fondamentalmente di creare un nido in cui la mamma si ritiene possa partorire in scioltezza. un nido igienicamente ovviamente protetto, quindi una tana. Quindi noi cerchiamo la tana per loro, quindi in un angolo della casa. Dove vogliamo noi tra l'altro che la cagna partorisca? Normalmente però, gli ultimi dieci minuti quando la cagna deve partorire, cerca un posto totalmente diverso. Quindi in realtà quello che noi abbiamo costruito la cagna lo ignora totalmente. E proprio dai dico, ma come è possibile, come è possibile, come è possibile. Ci sono un sacco di problemi da questo punto di vista. Perché alla fine magari la cagna, che magari partorisce in casa, poi ti fa i cuccioli in cucina dove non è provvisto. Quindi insomma con un'ambaradanna di problemi di ricadute che tu magari non sai gestire. In realtà lasciare fare natura vuol dire che normalmente, specialmente nella stagione estiva, io faccio partorire i cagni nei paddock in cui normalmente vivono. Quindi comunque col branco di corolla e di supporto, che non va mai a interferire con la partoriente. La femmina si scava una buca vergine tra l'altro, quindi partorismo in buona sostanza nella terra. La mortalità infantile del mio allevamento è praticamente bassissima, ai minimi termini. Proprio perché lascio questa fase in pratica alle cagne, quindi non do mai antibiogici, i miei cagni hanno un sistema immunitario molto forte. E a quel punto i cuccioli vivono in un'area che ho destinato appunto ai nascituri. I cani quindi da lì a due mesi vivono la loro vita assieme alla mamma. La mamma è di allatta, di cura, di toilette e quindi in qualche maniera di tutelo a un punto di vista anche sanitario. Tra l'attitudine dei cani, come dicevamo, c'è quella di proteggere il gregge. Parlaci degli alpaca. L'essenza precipua di questi cani è la protezione del gregge. Questa protezione, pur essendo insita nel cane, quello che devi fare è selezionare i cani giusti e poi creare un periodo di affiatamento e di imprinting e dai tre ai quattro mesi, quindi due ai quattro mesi. Quindi quello che io faccio è, avendo un gregge di alpaca e interessandomi appunto la protezione degli alpaca e non degli ovini da parte dei miei cani, li inserisco a due o tre mesi assieme agli alpaca, specialmente quelli che andranno poi a lavorare in futuro in greggi simili. Detto questo, oltre all'affidabilità, è fondamentale la deterrenza. Quindi un cane antilupo deve essere anche molto forte, molto rustico e deve avere un'aggressività intraspecifica molto alta, quindi aggressività nei confronti di altri cani. altrimenti se non protegge il gregge è un cane, figuriamoci contro un predatore. Questo allevamento mi permette di avere dei branchi di cani dissimili tra loro anche da un punto di vista caratteriale, quindi ho dei cani che in buona sostanza vengono destinati alle famiglie, tutta Europa e in tutto il mondo, sia ad allevatori specialmente di alpaca ma anche comunque ad allevatori italiani di pecore e ho un destino ai cani anche a progetti appunto di collaborazione con vari parchi nazionali italiani che poi a loro volta li affidano a dei pastori per la tutela dei gregge. Però la cosa bella è che specialmente con la maggior parte dei miei clienti, specialmente con le famiglie, ho la possibilità di conoscere tutte le destinazioni dei miei cani perché offro la possibilità di portare, consegno personalmente in tutta Europa, in tutto il mondo, i miei cani. Quindi devo dire grazie a Ismea, che è il pregmente istituto, che mi ha permesso di acquistare questa proprietà bellissima su quelli portonesi in cui assieme al grande timorasso, che è un vino locale bianco, produco un'altra perla bianca, almeno che il pastore Maremmano Bruzzese, qui in queste splendide colline. Quindi grazie ancora all'Ismea, che grazie a Gia appunto mi ha permesso di accedere a questa fantastica proprietà nel mezzo di Salezzano e Tortona. Allora ci salutiamo con la promessa che chiamerà i tuoi prossimi cuccioli, Ismea, Cia e Timorasso. Timorasso sicuramente, è già nato.